Abbiamo guadagnato in precisione perché appunto modellandoci prima il procedimento di ogni gara siamo noi stessi guidati attraverso un percorso che ci previene il più possibile la commissione di errori. Abbiamo quindi guadagnato in sicurezza, in sveltezza perché di fronte a ogni snodo procedimentale sappiamo subito dove dobbiamo andare senza neanche più dover consultare quei piccoli manuali operativi che ci eravamo fatti e che consultavamo quando si facevano le gare cartacee e quindi abbiamo guadagnato in efficienza complessiva.